A fine settimana sicuramente è difficile per tutti quanti, ma io credo che Quattro Zero non la puoi dimenticare dopo l'anno scorso una cavalcata così lunga, dura, ma 30.000 persone è un po' un peccato. Dobbiamo comunque cercare di far far bene, anche questo fine settimana io non ci sarò per problemi muscolari, ma c'è una squadra che ha fatto davvero tante tante partite, tutte col massimo dell'impegno e quindi, ripeto, sicuramente faremo il massimo per accontentare i nostri tifosi, tutti quanti. Quindi, ripeto, poi quelli che ci saranno sicuramente non faranno certamente rimpiangere gli assenti, ecco.